I finali saranno due minuti ai quattro quarti con dei personaggi che ha votato il pubblico, ora vedremo, voi lo dovete impersonificare e quattro minuti ai quattro quarti di voi tre minuti, non quattro BLNK sarà Papa Francesco mentre il dottore sarà Christian De Sica ci siamo ragazzi lo sai che quando rappo io ti guardo voglie tali da darti degli schiaffi fino al punto di spostarti prima hanno detto che ho dato schiaffi agli orientali se te ne do uno dopo poi non sai dove vorrei entarti lo sai com'è che noi ci siamo son pesante, vuoi sfidare il rapper del sollevante io ci ho fatto i rime da canzone, da pensione, le mie son da cinepanettone da cinepanettone, il fatto che fa rime un fattone viene che non mi sta dietro come un alettone lo sai che questo qua mi pastrisce, parla di Christian ma io sono il più Christian, si capisce? e si capisce, è l'annunciata, avevamo detto che era una battle improvvisata, comunque è una cazzata oggi non ti batto da cattivo, però se ti batto il megafonero ora capisce, è l'annunciata, è l'annunciata, ti devi arrivare la fumata bianca come il papa non capisci più elenche Christian e Sica, quando arrivo me lo fumo tipo a guida nella pipa yes, ogni volta cerchi di battermi in ogni dove, ogni volta cerchi con me però tu sei un coglione, quando sfidi il dottore vuoi fare il concilio di Trento ma oggi siamo in 29, siamo in 29, tu ti metti le prove, non mi sminchi, ti meschi violati, ti wiki sai che non mi ha vinto, io sono il papa Natale, tu diventi commerciale, è Natale in Indy è Natale in Indy, ma ti non mi batti, man, c'hai le rime scarse e me le spari a raffiche io sono Antonio Benedetto, tu sei pessimo, Benedetto sei dicesimo, meritava razziche meritava razziche, il fatto che Billing arriva fumata bianca perché meritava facile e in ogni caso tu dopo che minchia vlateri, dopo questa ti faccio passare il Natale in Indy a Napoli ah, non ti faccio nessuna bella cazzata, yes io io me l'ho intento intropisata, comunque non ci siamo, tirate sulla mano, io ho finito di raffare, ma dov'è quello bravo? ma dov'è quello bravo? caldi, non penso, sono il papa fumata bianca quindi è venso, fumo nell'adesso, questo è Christian e Sica, chi mi sfida non escono salvi come Enzo no, non escono salvi come Enzo, ma ci siamo, dimmi dove stai, al Vaticano quando mi hanno detto che ti sfidavo, mi hanno detto vai dottore, vai, sì, ma vacci piano sono un cretino, ditemi chi è che vince, tiratemi il pugno in alto, questo scarso l'ho fatto ci sono quattro quarti, ma un solo primo, non solo primo, io l'ho reprimo, lo bevo come un caffè alla fine certi scarsi pesano, vabbè, io sono liberare, mi voglio liberare di un peso, liberare pesa rotate, allora ce lo fai, a fare le rive se si tratta di fare freestyle, ma tu sei un cretino, quando commenti i video di primo, li commenti scrivendo primo, primo, l'hai richiusa con primo e ti assicuro quell'incastro nemmeno era il primo, che cazzo te lo devo dire inquino, io non uso solo la parola primo, perché rimo, ah, non dici solo primo, ma io sono il re e al primo lo reprimo, questa qua è la vita, anzi bra, ero già stato il primo, lo sono di nuovo, reprimo, reprimo, primo, io sei conto al tre, dico che è primo, io primo secondo me, capisci in ogni caso, vedi, ti porto qua il rap, non capisci che non parlo di niente, secondo il cash, yes, ma io conto i danni, secondo te sei primo, io sono primo, secondo Giovanni Evangelista, si è già sentista, la cuorina è starsa, la mia date pista, la mia date pista, il fatto che spiega in ogni caso gli rappo sai che date in pista, dili che normale si comprenda, questo qua non mi stenda, se con l'acquista l'operatoria si stenda, fai rime date pista, e non mi pare, fai le rime della lista, questa già sentista, mi fai cagare, non sei un bravo rapper, come dice mia madre, sei un bravo repista, sei un bravo regista, e questo che è il regista, lo capisci le rime, non le amministra, ma sei smista, cazzo di vuol dire di elencheco è un cataclisma, nel senso che rifletti luce di altri come un plisma, yes, no, ti porto il rap, con le rime non ce n'è, cazzo devo dire, lo chiedi a me, figurati, non pare, sai che c'è, che se voglio le rime ce le ho, e ce le ho pure per te, e ce le ho pure per te, il fatto che spiego che sei un coglione, non sei un dottore, in sala opera troia, operatoria, perché ho la tua tipa, ci gioco il dottore, me la porto in sala opera troia, e si ma te lo sei chiusa male, sei il king delle barre, se le vuole sputtanare, perché il posto c'è non lo male, questa la voglio dire, questa non la voglio dire, questa non vale, questa non vale, è perché sei normale, te lo spiego, vedi delle poste di chiuderci a mare, non capisci, lo sai, ti spreno ad un picnic, ti piacciono le foto del cazzo, le dick pig, vai a un picnic, peccato che sei una pipa e fai la pip pip, ancora una volta, mi fai solo lo strip, sei Willy Coyote, io ti sorpasso, pip pip, pip pip pip, fai solo lo strip, dico che è il giro, falli in cip, finisci in trip, non capisci questa storia, non la sai che non mi batti mica, sei insignificante al picnic, tu fai la formica, faccio la formica, se la bra ci sta, del resto io ti mando allà di là, dai via di qua, tu sei un gretino, nel rap sei paperino, e ti credi da affidare, da affidare, la sua che straffi va, e se sei da affidare, ti tiro schiaffi a raffica, cosa cazzo devo dire, non lo sai, lo sai che mi elenche con blatterà, nel stesso da affidac, ma tu hai fatto una babberà, ti ho fatto una babberà, vorrei dirti chi è che passerà, ma già si sa, e questa è una verità, e non ci sei, ma sì, non inizia, non vince il mi elenche, inizia con la D, inizia con la D, non capisci, sei ignorante, sì, neanche sai che il buon nome inizia con la I, il dottore mi inizia il mitico, io che detto legge, e il è un articolo, vorresti mandare, sono incomportabile, anche il tuo nome mi sarebbe con la I, se ti chiamassi come ti dovrei chiamare, indomentabile, non capisci bene che è sopra, e lì ti faccio fuori la faccia come una parentesi donna, non capisci, prendo la mira con la fionda, me li sudo fino alla morte, ti rigira nella tomba, due minuti liberi di sparenza, mi ria ci siamo? io 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 ci sei quando arrivo a dire primo, bello hai fatto un minomino, chiudendole tutte con rimo, faccio freestyle con un cretino, il tuo miglior freestyle inizia così, sdrai sul lettino è un ridicolo, vi giuro, mi dicono che culo, non ha chiuso nemmeno un concetto, buono a parte quello degli articoli, una buona e poi niente, articolo 31 articolo 31, cerrivo, cerrivo, non hai capito, non ti hanno scambiato, per primo, le hai chiuse tutte con primo, articolo 31, tu più su dal nord, articolo 31 articolo 31, ma non ti mento, io sono il piatto forte, tu fratello sei un condimento, tu non è un articolo 31, perché ci sta, DJ Axe, se ripete c'è un complimento, c'è un sentimento che mi sono, non sai perché ti sfondo, tu sei secondo e ti mangio su un piatto piano, quale piatto forte sulla traccia, ti tirano il piatto forte in faccia, a scemo, baci piano stasera di meno, io non sono né primo né secondo, ma secondo me, tu sei ultimo, e per te questo è Sanremo, e per te questo è Sanremo, e mi fai di regresso, quando che rappo tu stai indietro come un regresso, dovresti incularti, lo capisci, non mi presto, se sei un dottore, devi curarti di te stesso, e non mi presto, perché sono un morbo, come quello del resto, lo faccio solamente perché posso, se posso, ti penso, faccio solo freestyle, ogni mio pezzo non fa testo, ogni mio pezzo non fa testo, tipo disturbo, quello che dico, lo sai, lo parto e lo desurbo, tipo d'un parto, non capisci che l'ossicuro, non lo conosco proprio questo dottore, chi? Rurgo? Cirurgo! Scusa, sono io che ti do lezioni, sono il demiurgo, e scusami, si è notato che ti sei imbaffinato, hai cercato in ogni modo di non chiudertela con il masturbo, come il masturbo, e quando sono un morbo a spicchia, non le prescrivo, e non seguo il tempo con un ticchettio, e lo sai che non pago nemmeno la tua sanità, per carità, dolore, non ho pagato il ticchettio, oh, non hai pagato il ticchettio, e allora tranquillo, non ho seguito il ticchettio, tanto lo sai come è che si dice, zio, in questo fatto il risultato è scritto, lo sai chi vince? Io! Oh no! Casino! Il primo finalista del Carperia volume 9 è... Il dottore!